Si è rinnovato l'appuntamento con il binomio Sport Passione. La manifestazione Catania da Mare alla sesta edizione ha premiato anche quest'anno gli ambasciatori della Catanesità in Piazza Vicere. La serata presentata da Elisa Petrillo, Maurizio Catania e Antonietta Ricciardello ha avuto inizio con un minuto di silenzio per la scomparsa del tenore di origini siciliane Salvatore Licitra. Il premio organizzato dal club rossozzurro Barriera Battiati con il patrocinio del comune di Catania e del comune di Sant'Acadali Battiati ha visto alternarsi sul palcoscenico e oltre numerosi premiati diversi momenti di spettacolo con musica danza e il cabaret di Giuseppe Castiglia. Tra gli ospiti più attesi i giocatori del Catania Ciro Capuano, Davide Lanzafame e Pablo Ledesma. Il calore del pubblico catanese è una cosa risaputa, io già lo conoscevo però oggi è un'altra dimostrazione di tutto questo. Cosa significa per te domenica cominciare a giocare una partita importante con la maglia rosso-azzurra? Ma è una bellissima vetrina per me, io poiché sono di origine catanesi per me è una soddisfazione doppia quindi non vedo l'ora di iniziare insomma. Riconoscimenti assegnati inoltre alla nostra trasmissione sportiva Sala Stampe e Umberto Teghini, oltre che alla nuoto Catania. Per la sezione premio alla vita riconoscimento d'Alfina Fresta, cantante lirica disabile. Infine il figlio Guialmo Ferro ha ritirato il premio dedicato alla memoria dell'indimenticato padre Turi Ferro.